Giovinetto, te lo comando, levati. E il morto si alzò e si posi a sedere e guardava all'intorno. E cominciò a parlare. E Gesù lo restituì vivo alla madre. Immaginate la gioia della madre, l'entusiasmo della folla. Quelli che non conoscevano ancora Gesù dicevano, egli è un profetta. Gli appostoli dicevano, anche la morte li obbedisce. Sì, anche la morte obbediva a Gesù. Egli aveva ragione di dire, guardate le mie opere. Coloro che guardavano le sue opere dicevano, Gesù è onnipotente, Gesù è Dio. Ma i miracoli di Gesù dicevano anche un'altra cosa. Dicevano che Gesù era buono. Egli faceva i suoi miracoli per consolare, per beneficare. Ed era così buono con tutti. Era buono coi malati e li guariva. Con gli afflitti e li consolava. Con gli indemoniati e li liberava dal demonio. Chiediamo molto a Gesù, onnipotente e pieno di bontà, di aiutarci. Noi abbiamo tanto bisogno, cari bambini, dell'aiuto di nostro Signore. E Gesù ha promesso di non rifiutare mai il suo aiuto a coloro che lo chiedono. Gesù ha detto, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e la porta vi sarà aperta. Quindi dobbiamo chiedere, dobbiamo supplicare sempre l'aiuto. E Gesù, quando senti la nostra preghiera, poiché è buono, poiché è onnipotente, Gesù ascolta e concede le sue grazie. Chiediamo dunque al nostro Signore, per mezzo della Madonna, di darci la grazia. In primo luogo di mai offenderlo, perché l'unica cosa brutta su questa vita non sono le malattie, né la morte, né la sofferenza. L'unica cosa brutta è il peccato, perché il peccato è un'offesa fatta a Dio. Il peccato è la vera malattia dell'anima. Il peccato è la vera morte dell'anima. E che muore col peccato non vedrà Dio, non avrà l'eredità del Paradiso, non potrà andare in cielo. E questo sì, è la disgrazia. essere sbattuto fuori dal Paradiso, essere condannato all'inferno. Allora, la prima cosa da chiedere a Gesù, Gesù, dammi la grazia di piuttosto morire che pecare. Poi, l'altra grazia da chiedere è la grazia di aumentare nel nostro cuore l'amore verso Dio e verso il prossimo. E questo significa santificarsi. Diventare santo non è altro che aumentare nel cuore l'amore di Dio e l'amore al prossimo. La santificazione. Poi, l'amore di Dio nel nostro cuore è la presenza di Dio. Quando nel nostro cuore c'è l'amore verso il prossimo, vuol dire che Dio abita in noi. Perché Dio nostro Signore è l'amore, è la carità. Quindi, è la sua presenza in noi che ci dà la grazia di amare il prossimo. Dunque, chiediamo in primo luogo la grazia di piuttosto morire che peccare e chiediamo al nostro Signore l'aumento della sua carità nel nostro cuore. E la terza cosa chiediamo sempre a Gesù la grazia di fare sempre la sua volontà. Abbiamo già considerato come Dio ha creato tutto con la sua volontà. La volontà di Dio è inipotente. La volontà di Dio è grandiosa. La volontà di Dio è Dio stesso. Se l'ho dato, Gesù Cristo. Oggi c'è Radio Roma Libera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org 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 www.radioromalibera.org